C'è un detto in Svezia che dice non esiste brutto tempo ma solo l'abbigliamento sbagliato. Basta vestirsi nel modo giusto e poi si può stare all'aria aperta senza problemi. Io ho sempre vissuto in simbiosi con la natura, anche quando nevicava o pioveva. È sempre stata il mio rifugio. E oggi la considero la mia meditazione. La mia mindfulness. Il nostro corpo è fatto per stare nella natura. Il fatto che noi stiamo nelle città, nelle case, negli automobili, negli appartamenti è una forzatura perché il cervello si è evoluto e così tutto il nostro corpo in ambienti naturali. In mezzo alla natura noi possiamo fare esperienza di tutto quello che abbiamo intorno a noi in un modo molto consapevole. Con l'aiuto di Nicola De Pisapia, professore associato in neuroscienze cognitive all'Università di Trento e Licia Florio, esperta di mindfulness e meditazione, mi sono lasciata ispirare dalla natura per creare degli spazi di tranquillità da condividere insieme a voi. Sono Filippa Lagrebac e questo è Riconnessioni, una serie promossa da Kinder Cereali e realizzata da Cora Media, che ti fa compagnia nei piccoli momenti quotidiani, mentre sei in fila al supermercato, sul tram o mentre lavi i piatti. Ti porto in mezzo alla natura a riflettere un po' su ciò che è essenziale, su noi stessi e noi stesse.